Abbiamo organizzato questa serata dal titolo Around the World con diverse isole tematiche. Abbiamo infatti sviluppato quattro diverse tipologie di cucine, l'africana, l'americana, la nord-europea e l'asiatica, proprio a testimoniare la nostra internazionalizzazione, questa vocazione che è sempre più cosmopolita. Abbiamo infatti aperto dei flagship store a New York, a Londra, quest'anno apre Singapore e Parigi, proprio per essere sempre più bandiera del Made in Italy nel mondo. Quest'anno, come molteni, presentiamo sia nel nostro flagship di Corso Europa che in Fiera una serie di piccoli pezzi disegnati da differenti designer che vanno a completare quella che è la nostra offerta, che oggi è molto ampia sia dal punto di vista degli imbottiti che per quanto riguarda quello che è il nostro DNA, quindi i sistemi giorno e i sistemi notte. Il rapporto con i designer rappresenta forse la parte più bella del nostro lavoro. Anche il fatto di lavorare con persone provenienti da diversi paesi credo che sia un grande arricchimento culturale per tutta l'azienda. Presentiamo un nuovo divano su cui io sono seduta, T-Time. Per quanto riguarda i tavoli, presentiamo la versione definitiva del tavolo ARC disegnato da Foster & Partners. Dada in quest'anno presenta una nuova cucina appunto chiamata In Dada, che si ispira a un gusto più giovane. Abbiamo presentato un'idea, un concetto di aggregazione di elementi partendo da una cosa che fosse non una cucina fissa ma un insieme di soggetti singoli componibili per arredare un ambiente cucino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.